Siamo pronti nuovamente per effettuare il primo fly test del quarto, va beh, era giusto per ufficializzare la cosa, dai, riprendi, occhio a Cristiano. Ce la farà il nostro eroe, un volo ha sopravvissuto, vai, vai, che con l'erba alta non succede niente, puoi atterrare anche in bicchiata proprio, vai. No, se me lo mandi troppo su io non vedo. Vabbè, dai, giusto mostracciamo il motore, vediamo un po' che se ce l'ha, mmm, com'è bello l'area, guarda un po', senza vento è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa senza vento, guarda, molto più semplice dello zaggio, Questo potrebbe essere anche un veleggiatore, si muove bene, sento il vento parecchio, io guarda, rispetto allo zaki, lo zaki era molto, si accendeva sotto. E' un buon passaggio qua vicino. No, non riportare i 40 chilometri alto che non lo vedo più, deve passare qui vicino. Un po' più vicino ce lo puoi mandare? Più vicino verso noi? Eh, verso di noi. Si, a terra ma. E' un po' più vicino. Non lo vado a andare in un po' più. E' un po' più vicino. E' un po' più vicino. Lungo? No, troppo lungo. Devi atterrare al lato contrario. È controvento? Appunto, così stai avendo. Così è controvento? Ah giusto, così è controvento. Ciao! Ok!